Sei sicuro che quando stai in palco stai comunicando la tua vera identità? Ti è mai capitato di vederti in un video e di non trovare coerenza con quello che pensavi di aver fatto e con quello che stai vedendo? Se durante la live performance non hai il controllo del corpo oppure pensi di averlo ma poi appunto incontri queste difficoltà quando ti vai a riguardare e stai ancora cercando la tua strada per poterti allineare con i tuoi valori, le tue emozioni e il tuo messaggio e soprattutto vuoi distinguerti dalla massa, allora questo workshop fa per te. Io sono Giovanna Mazzon, Vocal Essence Coach e fondatrice del metodo Vocal Essence. Grazie a questo workshop sulla live performance dedicato interamente al potere del linguaggio del corpo acquisirai degli strumenti importanti per risolvere tutto quello che abbiamo detto prima ed accedere ad un nuovo piano di consapevolezza che renderà la tua esibizione unica di impatto e allineata con la tua personalità artistica. Evita di essere uno tra tanti cantanti ma sii l'unico del tuo genere proprio perché sei consapevole di ciò che fai in ogni momento. Ti faccio un esempio. Se tu muovi un braccio o una mano insieme a quello che stai cantando in quel momento preciso tutto ciò prenderà una forza ben diversa da non farlo e darà importanza a quella parola rispetto a un'altra e questo è qualcosa che va deciso in modo consapevole. Inoltre una cosa importante è che questo gesto che tu fai sia allineato con quello che tu senti dentro e se questa connessione non c'è talvolta non è così efficace come dovrebbe essere. Non è qualcosa di semplicemente teorico ma diventa qualcosa di estremamente allineato. È un concetto molto complesso ma che insieme affronteremo al workshop. Le iscrizioni sono aperte ma i posti sono limitati. Ti ricordo che i primi 20 che si iscriveranno avranno accesso a un prezzo estremamente speciale. Tutto ciò che dovrai fare è cliccare il link qui sotto. Ti aspetto! Grazie a tutti!